Domenica 20 da qua. Abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva per il governatore Vincenzo De Luca, giudizio per reati commessi quando era sindaco di Salerno, l'imprenditore Eugenio Rainone che ha realizzato l'opera e l'ex proprietario del Jolly Hotel Rocco Chechile, i sostituti procuratori di Salerno Alfano e Valenti hanno richiesto le pene più alte, due anni e due mesi per De Luca, due anni e sei mesi per il costruttore e l'albergatore. Due maestri di 56 e 52 anni di Giuliano in Campania in provincia di Napoli, incastrate dalle telecamere installate in classe e dalle intercettazioni ambientali, sono state sospese per un anno dal GIP di Napoli Nord per maltrattamenti sui propri alunni. Le indagini sono iniziate il 26 aprile scorso dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Parete in provincia di Caserta dai genitori di un bimbo che frequentava una scuola paritaria di quel comune. Avevano notato un cambiamento di umore e di comportamento del figlio, a insospettire i genitori anche alcune espressioni che il piccolo aveva iniziato a utilizzare. Le indagini si sono concluse ieri, il provvedimento di sospensione è stato notificato dai carabinieri di Parete. La guardia di finanza di Caserta nel corso di controlli effettuati presso il casello autostradale di Napoli Nord è fermato un autocarro procedendo ad un'ispezione del carico dell'automezzo. Una volta scaricate e aperte le casse di legno sono state rinvenute al loro interno circa 4.500 stecche di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di una tonnellata. L'operazione di conteggio del carico illecito ha permesso di appurare che il tabacco era destinato al mercato campano e privo del contrassegno di Stato. L'autista, un 46enne di nazionalità romena, è stato arrestato. Diceva di essere laureata a Roma, di avere conseguito un master a Boston a casa di due coniugi di Contursi in provincia di Salerno, si era presentata in camice bianco promettendo miracoli. Farò camminare vostro figlio tetraplegico. Il finto medico, 44 anni, aveva smentito addirittura la diagnosi dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per realizzare il miracolo, ma è avvenuto. La signora in camice bianco aveva chiesto una parcella di 480 euro. I due coniugi hanno pagato e sperato, ma non avendo avuto risultati, hanno denunciato la donna. Al finto medico vengono ora contestati due reati, truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medico-legale e di massoterapia. Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di un 33enne napoletano gravemente indiziato di atti persecutori e danni della moglie. Le indagini erano partite con la denuncia della donna che a febbraio, per la prima volta e dopo aver abbandonato la casa coniugale per continui maltrattamenti subiti, aveva denunciato tutto ai carabinieri. E' un incidente nelle operazioni di rifornimento del carburante a una nave all'interno del porto di Salerno ha rischiato di determinare un grave danno ambientale. E' accaduto ieri sera durante le operazioni di rifornimento a una nave della Grimaldi per cause da accertare il tubo di gasolio si è rotto sversandone diversi litri sulla chiglia. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG Ora. Da accertare il tubo di gasolio si è rotto sversandone diversi litri sulla chiglia. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG Ora. Amica 20 marzo stacco io.